Istituto di istruzione superiore Volterrelia di Ancona. Nella sede di via Esino è in progresso un progetto da oltre 9 milioni di euro, fondi PNRR, per l'installazione di isolatori sismici all'avanguardia. È giusto che, essendo un edificio abbastanza, diciamo, datato, venga adeguatamente sistemato come antisismico. I lavori sono cominciati a gennaio scorso e termineranno previsti a marzo 2026, in quanto ha dato la possibilità che le attività di atti fossero svolte regolarmente, nonostante i lavori che vengono comunque intervallati tra lezioni e periodi di sospensione scolastica. È la prima volta che questa particolare tecnica viene applicata ad un edificio scolastico di questo tipo. Le tecnologie d'avanguardia che sono utilizzate riguardano l'inserimento di isolatori alla base. Sostanzialmente è un intervento all'avanguardia dal punto di vista ingegneristico. Vengono tagliati i pilastri e alla base inserendo questi dissipatori di energia. È un intervento che appunto rappresenta una rarità, è il primo che facciamo su una scuola, ma soprattutto perché lo facciamo su una struttura già esistente. È questo che rende interessante dal punto di vista anche ingegneristico strutturare l'intervento, tant'è che ha dimostrato l'interesse sia dell'università che dei vari ordini professionali, ingegneri, architetti e geometri che hanno dimostrato interesse per questo intervento. Grazie.